Grazie, signor Presidente, per portare la voce di 1.090 lavoratori e lavoratrici calabresi che lavorano per la società Abramo Customer Care, che stanno andando a casa, stanno perdendo il posto di lavoro perché la team non ha rinnovato la commessa con la società Abramo. Sono in corso delle interlocuzioni tra le sigle sindacali e il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro. Ci sono stati dei tavoli tra i sindacati, il Ministero e la Regione Calabria, in cui sembrava che mesi fa si fosse prospettata una soluzione da parte della Regione Calabria, cioè quella di avviare una digitalizzazione della pubblica amministrazione in modo da internalizzare questi lavoratori che altrimenti perderebbero il lavoro. Di questa soluzione prospettata oggi non ce n'è neanche l'ombra, probabilmente era una trovata preelettorale, una propessa preelettorale. Invece ieri, nei giorni scorsi, al tavolo che si è tenuto è stata prospettata una soluzione totalmente insufficiente a garantire questi lavoratori che altrimenti rimarrebbero a casa. Presidente, stiamo parlando di mille e novanta persone, mille e novanta famiglie che in questo momento storico rischiano di rimanere senza lavoro, senza un salario dignitoso, senza un futuro, una prospettiva di vita per i propri figli. Quindi io chiedo a nome di tutti i lavoratori di cui ho anche incontrato una delegazione che i ministeri interessati, il ministro Urso e la ministra Calderone, si siedano al tavolo seriamente con le sigle sindacali interessate e anche con la Regione Calabria e trovano molto presto, perché il 30 giugno scade una commessa e ad agosto scade l'amministrazione straordinaria, molto presto per trovare una soluzione per evitare che questi lavoratori rimangano, di queste cittadine e queste cittadine rimangano senza lavoro. Non ce lo possiamo permettere. Grazie. Grazie onorevole Baldino.